Passo la parola ad un grande uomo, non solo per la tassata, ma anche per un cuore granissimo e si do chiunque a dire il contato, è il mio capuccio. Un cicciadino di poeta buonasera. La lista calabrica e poeta futura è la speranza di un futuro migliore. Tutti i componenti della lista sono spiriti da un unico scopo, dare verità e fare opportunità a tutti, a tutti i nostri cittadini. Da un po' di tempo, i giovani come me, 35 anni, né 50 e né 55, i giovani come me, fanno la valigia, vanno via dalle nostre perle, non solo perché non trovano lavoro, ma anche e soprattutto perché hanno perso la speranza di provarlo. Ebbene, cittadini, c'è bisogno che questa tendenza si inverta. c'è bisogno di provare a migliorare l'economia del nostro paese. E come ciò che ho fatto all'aprito, io, insieme a questo magnifico gruppo, cercherei di migliorare per questo motivo con i cittadini, il 5 giugno, per un futuro migliore, votate compatti per la lista numero 3, dall'aprito con la dieta futura. Grazie.